Con sta storia dei video su TikTok, il mio salotto è diventato un salone espositivo di un mobilificio. Mia moglie mi ha detto che la prossima roba che porto a casa esce lei. Non credo sia proprio da prendere come una minazza in realtà. Volevo accontentarla, ma oggi ho un po' di tempo, vuoi non fare niente? Vorrei provare a fare un robot da appenderci le chiavi, quelli che si tengono all'ingresso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dai amore, non esagerare. La metti sul tragico per un portachiavi, anche appeso al muro. Cosa ti ingombrerà mai? Ah, sei tornata. Ho indicato le chiavi. Ma come? Ma e te ne vai così? A saperlo che bastava così poco lo facevo prima.